Italia 1 Grease Alberto, devo dirti una cosa L'LCD che ti ho regalato non l'ho comprato da Troni Oh Alberto, potrei mai perdonarmi? Dal 6 al 23 novembre con lo sconto del 15% su centinaia di prodotti Troni vi offre un'occasione straordinaria di avere il meglio a prezzi eccezionali Troni, non ci sono paragoni Vicino a te c'è un'università nuova, dinamica, che si adatta alle tue esigenze anche se lavori È l'università online eCampus Segui le lezioni online quando vuoi Studi con un tutor nella tua città Ti recchi al campus dell'università per gli esami eCampus, l'università online vicina a te Informati, chiama 800 410 300 Vivi in C, combatte i sintomi del raffreddore e dell'influenza Vivi in C, i ritorni effervescenti È un medicinale che può avere effetti invece di dati anche gravi Compas, gruppo Mediobanca 10.000 euro a soli 200 euro al mese Chiamalo 800 777 4433 Compass, diamo forza ai tuoi progetti Experience more with Samsung Mobile Fiesta da New Ford Nuovi Saccottini Da oggi, tre forme diverse Per esaltare tre diversi ripieni Per un morbido risveglio Nuovi Saccottini Molino Bianco Il piacere di mangiare sano Grady Twinings Un tè straordinario Un gusto inconfondibile Da assaporare anche detainato Twinings Il piacere del vero tè Da McDonald's non serve essere fortunati Con il concorso 1 trova subito la carta vincente Oppure completa la combinazione di numeri Vinci, viaggi da sogno Alpitour Scooter Peugeot Telefonini Sony Ericsson Prodotti McDonald's E altri fantastici premi Uno su quattro vince subito Vieni a giocare Hai fame? Non mangiare la prima cosa che capita Scegli i nuovi Tuck Cracker Naturali, gustosi e tascabili Scegli Tuck Cracker Perché la fame colpisce all'improvviso Goodyear La verità è importante Lo sai Che banca la puoi giudicare anche tu La verità è importante, lo so Da subito il 4,70 che vuoi di più La verità è importante, perciò Col conto deposito Gli interessi li hai subito È la dimostrazione che Il tuo risparmio davvero è sicuro Che banca! Quanti colpi si possono prendere nella vita? Pastum Gel risponde colpo su colpo È un medicinale a base di chetoprofene Che può avere effetti indesiderati anche gravi Questi sono i soldi per la settimana bianca Certo che sono sempre un sacco di soldi Per prendere freddo Perché non è vero? Tutti gli anni è la stessa Ma sono i soldi per una settimana intera Anche questi sono i soldi per una settimana intera Ma sono solo 5 euro E che vuol dire? Che con ricarica famiglia team Una casa paga papà E noi per una settimana ci parliamo E ci mandiamo i messaggi Voi? No, anche tu se vuoi Grazie Bene, allora che dite? Rompo Un pochino In che senso? No, nel senso che devi romperlo piano L'erosione dello smalto può essere favorita dal consumo di cibi acidi Molti succhi di frutta, molta frutta, vino, aceto L'erosione spesso non è visibile ad occhio nudo È utile andare dal dentista Per avere una sua valutazione Lo smalto da SensoDen è un dentifricio Che aiuta a proteggere i denti dall'erosione da acidi Italia Uno Non faccio per metterlo a suo agio Questo problema è... Le Iene In diretta martedì alle 21.10 Aiuta la natura Aiuta il WWF Chiedi ne dico l'Attac Il tacquino per la natura Legato ai mensili Focus e Focus Junior Con soli 5,90 euro Aiuterai il WWF ad allestire in Italia Delle postazioni di pronto soccorso Per curare gli animali selvatici È un'iniziativa Media Friends Focus e Focus Junior Allora Ho visto che conosci Troy Bolton Non direi, mi stava solo aiutando